Ben trovati e ben trovati da tu per tu, ospite questa settimana abbiamo Ugo Rossi che è consigliere provinciale di azione, ben trovato Ugo Rossi. Ben trovati, allora parliamo di soldi, tutti conoscono il tema dei soldi visto che senza soldi non si mangia, tanto per essere banali ma estremamente chiari, ma parliamo di un tema, diamo per scontata l'autonomia, tante volte noi abbiamo la parola provincia sempre in bocca perché è il nostro punto di riferimento istituzionale, ma si parla in questo momento dei rapporti finanziari da rivedere, Stato-Provincia. Lei è stato protagonista del patto di garanzia di Roma e ci può spiegare ai nostri ascoltatori quali sono i rapporti finanziari Stato-Provincia e quali sono le competenze? Lo so che ci vorrebbe una giornata ma cerchiamo di ridurre in due minuti e qual è il problema, se c'è un problema adesso in questi rapporti finanziari Stato-Provincia? Sì, grazie, domanda interessante. Bisogna stringere, certamente. La prima cosa che dico è relativa alla domanda che tutti i cittadini si fanno, ma in questo momento lo Stato dà soldi sufficienti all'autonomia oppure no? Ecco, allora, quando c'era la crisi economica, ve la ricordate quella mondiale, quella globale, cosa succedeva? Che essendoci la crisi economica le risorse dell'autonomia speciale diminuivano perché il gettito fiscale originato dalle tasse che le imprese e i cittadini pagano sul territorio calava per effetto dell'economia. In quel momento, in quegli anni, gli anni bui sono stati circa 6, 7, 8 anni durante la mia legislatura e quella di Delai, in quegli anni lo Stato non dava nulla in più per sopperire a questa mancanza alle autonomie speciali. Adesso c'è stata la crisi economica del Covid. Durante la crisi economica del Covid invece lo Stato, giustamente, proprio perché è stata una cosa eccezionale, mai accaduta nella storia, ha pagato lui le mancate entrate della provincia. Quindi ha salvato i bilanci della provincia sotto il profilo delle mancate entrate. Cosa significa questo? Che in questo momento la provincia autonoma di Trento dispone di più risorse di quante ne disponeva invece negli anni precedenti. In più, grazie anche agli stanziamenti dello Stato successivi alla crisi del Covid, in questo momento stanno arrivando in provincia fondi che una volta non arrivavano perché una volta la sanità ce la pagavamo tutta noi, gli autobus, le corriere da comprare ce le pagavamo tutte noi. Invece in questa legislatura sono arrivati decine e decine di milioni di euro dallo Stato per fare investimenti nella sanità e fare investimenti per esempio nel comprare gli autobus nuovi o treni nuovi. Chiaro che questo libera risorse da altri capitoli del bilancio. Per esempio io sento tanti sindaci che si lamentano e che dicono, il Presidente Fugati ci dice che le risorse sono scarse e io dico che non sono mai state così a posto come adesso le risorse per i motivi che ho illustrato in questo momento. C'è un tema però che va affrontato e il Presidente Fugati e il Presidente Compacer lo stanno affrontando anche sull'onda di proposte che io stesso, noi le minoranze abbiamo fatto in Consiglio, bisogna spiegare allo Stato che nel momento in cui lo Stato aumenta il debito noi non possiamo invece contribuire in maniera economica alla riduzione di questo debito. Però attenzione perché anche questo è un gioco a doppio taglio perché arriverà il momento che lo Stato dovrà ridurre il debito e allora in quel momento noi tireremo fuori il patto di garanzia che assieme a Compacer abbiamo firmato per dire allo Stato puoi chiederci un sacrificio ma non oltre una certa cifra. Grazie, grazie della chiarezza e soprattutto della sintesi perché il tempo scorre veloce e abbiamo un altro argomento da trattare sempre in tempi brevi e vale a dire si parla di preferenze di genere, ritorno alle tre preferenze per le leggi, per la legge elettorale provinciale di cui una di genere, però ci sono altri aspetti che vanno sottolineati soprattutto nel lavoro femminile. Lei cosa? Ma io non voterò la proposta di legge della collega Masè che reintroduce le tre preferenze. Penso che sarebbe stato il caso di discutere in un ragionamento molto più ampio che rivedeva la legge elettorale in senso ampio. Questo non è accaduto quindi io non la voterò. Però parlare di lavoro femminile e di parità di genere non è solo una questione di liste elettorali. Le donne che lavorano nel settore privato sanno benissimo che se devono fare un figlio hanno delle tutele di maternità. Sanno benissimo che queste tutele di maternità sono inferiori a quelle delle donne che lavorano nel settore pubblico. Io ho fatto da tempo una proposta di legge che vuole equiparare queste due possibilità dando quindi la possibilità alle donne che lavorano nel settore privato di fare più figli avendo una tutela più ampia. Sono stato anche disponibile per due anni, ho presentato due anni fa questo disegno di legge, ad aspettare le proposte della Giunta su questo. Non sono mai arrivate. La Giunta ha approvato una legge in cui dice mi impegno a favorire questo avvicinamento fra queste due realtà ma ieri in commissione mi è stato detto che la proposta costa troppo che la proposta ha dei problemi tecnici però la provincia non ha fatto nessuna proposta alternativa. Io sarei stato disponibile anche a ritirare la mia firma dal disegno di legge a votare un disegno di legge della Giunta pur che ci sia una come dire presa d'atto che questo è un tema importante. Se noi non consentiamo alle donne che lavorano di avere maggiori tutele, maggiori diritti ma nello stesso tempo anche di ridurre i costi che le imprese hanno la natalità sarà sempre in sofferenza. Ecco la ringrazio anche per essere stato esaustivo in questo secondo argomento perché vedo che la regia ci fa segno che il tempo a nostra disposizione è trascorso. Ringrazio Ugo Rossi, consigliere provinciale di azione. Grazie Rossi. Grazie mille a voi. E noi ci rivediamo con un altro ospite. Grazie ai nostri cari ascoltatori. Grazie a tutti.